Siamo al ghiacere della Capra e oggi possiamo toccare con mano le forme di modellamento glaciale. Abbiamo attraversato la morena del 1850, ci siamo resi conto come il processo di modellamento glaciale sia attraverso il modellamento della superficie terrestre, sia attraverso il trasporto e la rideposizione dei sedimenti, cambia rapidamente l'ambiente glaciale. I geomorfologi lo cartografano, aiutano a modellizzare il funzionamento dell'ambiente glaciale ma anche a stabilirne un'evoluzione nel tempo. Siamo qui al ghiacciaio della Capra e anche oggi abbiamo ripreso il rito del Requiem di due anni fa. Di nuovo una veglia funebre perché è difficile non pensare a queste veglie sui ghiacciai, gli acciai che stanno scomparendo. Ma è una veglia anche di ricordo di un caro amico, un amico che non c'è più e che noi portiamo con noi. E al medesimo tempo è un modo per raccogliereci tutti quanti e per ricordare che dobbiamo agire e agire presto e velocemente.